Il marchio Iveco non ha certo bisogno di presentazioni, ma se sei un imprenditore sai bene che la difficoltà sta nello scegliere il giusto veicolo o il giusto allestimento. Vuoi svoltare? Primo sole da 30 anni e concessionaria ufficiale Iveco per le province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Trattori, mezzi da cantiere per passare poi dal versatile Eurocargo fino ai leggeri daily, cassonati o furgonati. Alla primo sole una squadra di professionisti al servizio dei clienti della quale ci parla Guglielmo. Oltre 50 dipendenti suddivisi su una sede operativa e tre presidi commerciali. La concessionaria primo sole segue tutte le fasi di vita di un veicolo, dalla consulenza prevendita all'allestimento, immatricolazione e successiva manutenzione. Come stai pensando a cosa fare se il tuo mezzo dovesse aver bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria oppure di ricambi auto? Nessun problema. L'officina, fornita di tutte le più moderne attrezzature, è in grado di intervenire con i propri tecnici specializzati in tempi brevi su qualsiasi modello della gamma Iveco. E grazie al nostro magazzino verticale, 3.000 metri quadri di spazio attrezzato con oltre 20.000 articoli movimentati, la primo sole può rispondere efficacemente ad ogni richiesta, vantando ad oggi un indice di disponibilità immediata di ricambi del 90%. 18 officine autorizzate dislocate su tutto il territorio della Sicilia orientale che offrono un servizio di alta qualità H24. Iveco e concessionaria primo sole, con nubio perfetto.